Hi guys benvenuti in questo nuovo video è giunta l'ora guardate che sole è uscito oggi non so come ma oggi lo provo è la giornata buona svegliamo anche il fatto che il mio paramotore non è andato molto lontano ma l'ha preso un ragazzo del mio paese che sta facendo il corso e quindi oggi farà un po di corse col motore sulla schiena per abituarsi quindi rimarrà sempre in zona non lo perderò mai di vista l'ho montato messo la benzina ho messo 6 litri così non posso andare tanto lontano e ci vediamo in volo allora raga siamo pronti mi si è penna versata della benzina dentro nel casco non vi dico come perché se non bestemmio guarda ma insomma accediamo saga attivo devo soffiare la benzina dentro che mi sono dimenticato stavolta le scritte le ho messe verso l'interno perché le ho sentite da gennaro e da toni perché l'avevo messo verso l'esterno allora intanto mi avete chiesto il peso e nel video dell'unboxing non l'ho detto l'ho pesato pesa 25 kg a secco a differenza del mini plane pesava 23 quindi sono due chiletti in più ma calcolando la spinta in più insomma dai non è male due chili in più cosciali l'entrale litorale e ci siamo il pod allora la figata di questo imbrago della apco non lo dico solo io ma lo dice anche un mio amico che all'attacco l'imbrago per il fisso è che quando cammini scompare proprio dietro il culo si cammina benissimo allora il vento sta facendo un po' lo stronzo perché è appena uscito il sole e quindi comincia un po' a caricare le montagne e gira ok vi dirò che sono un po' emozionato c'è ragazzi mi si è rotto l'attacco della gopro oltre a essere mandata la benzina nel casco mi si è rotto anche l'attacco della gopro senza parole proviamoci un po' di sfiga oggi eh un po' di sfiga che alleggia quindi vediamo di fare le cose con calma e con criterio di non tirarci addosso altra sfiga che non serve allora di nuovo non ho modificato i freni della vela perché prima voglio provarla e poi vedo quanto dovrò accocciarli non so quasi quasi lo faccio alla francese perché il vento un po' strano mi riferisco avere occhi sulla vela difatti è un po' strano ha girato da nord eccoci oh è stata dura eh oggi allora non ho messo sui guanti perché farò un volo breve insomma non ho messo un volo un'ora però vi dirò che ho già freddo allora impressioni sul motore spinge spinge onesto si sente che ha un po' più di grinta di quello di prima la posizione in volo come lo sapevo già è un po' più verticale un po' più dritta un po' più protesa in avanti e non mi non ci sono abituato non so se mi piace ancora o no ma non ci sono abituato il rumore lo adoro devo accorciare un po' i freni ma quello si sapeva mi fanno gola quelle nuvolette lì devo essere sincero mi fanno gola ma per ora non ci vado anche perché come vi ho detto sono senza guanti mi sto rilassando mi sto rilassando bello bello il mio nuovo paramotore allora io andrei all'atterraggio perché voglio regolarmi i freni e poi voglio salire su quelle nuvole come vedete l'amanicamento sta facendo un po' la pazzerella vediamo anche di non piantarsi ok freddo fa freddo fresco guarda il vapore allora bene molto bene non sto a ridirvi la menata che la posizione è un po' nuova per me che si sta dritti che è un altro modo di volare ma del resto sono molto contento difatti adesso accorcio i freni della vela e torno su adesso sta girando perché dovrebbe mettersi da sud verso mezzogiorno ho i miei dubbi che riuscirò a decollare ma invece no sono atterrato perché volevo cambiare i freni volevo accorciare i freni ma poi ho pensato che è una cosa che è meglio fare in casa con calma allora ho preso i guanti e sono ripartito c'è un bel banco di nuvolette basse adesso le andiamo a trovare questo imbrago della Apco è veramente formidabile nella schiena praticamente non si sentono vibrazioni e sì che sono comunque a manetta adesso con queste stringhe possiamo tirare su gli ultimi 5 cm non so se riuscite a vederlo gli ultimi 5 cm dell'imbrago così stiamo più comodi poi li mogliamo quando dobbiamo atterrare ci siamo quasi siamo ormai in base come primo volo gli do una bella tirata di orecchie a sto motore ci siamo quasi è sempre è sempre una cosa incredibile volare sopra le nuvole non si può spiegare davvero non si può spiegare è il sogno di ogni persona a cui piace il volo fin da piccolo è il sogno che si ha è volare sopra le nuvole e giocare con loro è incredibile eccoci ragazzi guardate il mondo tutto bianco fantastico beh come primo volo direi che a questo motore non è andata proprio malissimo l'ho portato subito in uno dei posti più belli del mondo magnifico c'è interferenza chiudo la radio e godo il momento e godo il momento ragazzi sono senza parole stai me around just to pin me down grazie a tutti 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 ah ragazzi se solo poteste capire pronto? sì la sono Toni ciao ciao sono in volo sì sono in volo sì ragazzi scusatemi se mi sono perso un po' ma me la sono goduta me la sono goduta e me la sono goduta è sempre uno spettacolo assurdo starei lassù tutta la vita ragazzi anche oggi abbiamo volato siamo andati a trovare quelle nuvolette lì è come sempre stato magnifico il motore il motore il motore va alla grande come mi aspettavo e avendolo già provato da Toni non c'erano grosse novità e quindi niente è il momento dei saluti iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao